Come redazione di Global Project stiamo impiegando da diverso tempo le nostre energie per cercare appunto di analizzare questo fenomeno dei populismi per cui pensavo che sarebbe interessante provare a tornare su questa desinenza nefasta degli ismi provando a concentrarci su quello che lei ci ha appena detto, cioè che il populismo, l'ideologia del popolo, il concetto di popolo sono comunque un armamentario dalla mentalità intrinsecamente fascista. Questo mi sembra interessante perché in un certo modo ci aiuta a scongiurare alcune interpretazioni del populismo che vengono date dagli sconfitti dei populismi reazionari come per esempio appunto il Partito Democratico o tutte le forze diciamo della socialdemocrazia. Loro sostanzialmente ci dicono c'è stata la crisi economica, c'è stata la disintegrazione del welfare, dei diritti sociali e degli istituti della previdenza sociale tradizionali, quindi il popolo si è vendicato contro di noi perché sostanzialmente è più povero. Ora la domanda che noi ci siamo fatti a cui non sappiamo dare una risposta precisa ma vorremmo discuterne qui stasera assieme a lei, assieme a tutti voi, è se in realtà i populismi proprio a partire da questa mentalità chiusa, da questa mentalità della parte che parla in nome del tutto eccetera eccetera, non riproducono, non riproducano al di là diciamo della sofferenza economica anche una sorta di contraccolpo culturale. C'è un contraccolpo culturale alla crisi delle identità prefissate come può essere quella banalmente del privilegio di cittadinanza legato al colore bianco, all'italianità eccetera eccetera una crisi per esempio del ruolo dell'uomo all'interno delle famiglie tradizionali e tutta un'altra serie di risorse simboliche che comunque hanno caratterizzato dei sistemi di potere all'interno della società. Quindi una sorta di attaccamento a queste idee chiuse, prefissate, storiche che in un certo senso dal passato vogliono ritornare nel futuro per fare in maniera tale che ci possa essere appunto la garanzia di questi privilegi che invece sono stati scossi da tutta una serie di cambiamenti che sono provenuti sia dai movimenti sociali, culturali che poi ovviamente anche dallo stesso cambiamento diciamo dei rapporti produttivi e dalle modifiche diciamo del mondo del lavoro. Posso fare una chiosa ancora ma sta nella linea di quello che Fabio chiede. Mi sembra che il suo giudizio che tra l'altro credo che qui sia ampiamente condiviso diciamo sull'intrinseca reazionarietà del concetto di popolo sia qualcosa che richiama a una polemica che non è una polemica di oggi che affonda credo anche le radici nella sua formazione operaista cioè ci ricordiamo Asor Rosa 1965 scrittori e popolo certo allora era una polemica assolutamente diciamo legata alle condizioni politiche presenti però c'era qualcosa di diverso da oggi cioè Asor Rosa si scagliava contro una certa tradizione gramsciano contro una trivializzazione del pensiero gramsciano dell'idea che la rivoluzione fosse un fatto di popolo così la chiamava Gramsci perché non va dimenticato che anche il popolo ha una sua storia nel pensiero politico di sinistra in questo paese e Asor Rosa diceva no qua questo è ciò che sostanzialmente preconizzava in qualche modo il compromesso storico la perdita diciamo di la perdita dell'orizzonte rivoluzionario da parte della sinistra però allora diceva no al popolo sia alla classe cioè questo c'era un termine che come dire da sinistra o da una prospettiva radicale rivoluzionaria si opponeva a questo concetto oggi sembra difficile ripetere la polemica diciamo nei medesimi termini del 1965 secondo diciamo il canone operaista allora siamo d'accordo popolo non va bene che cosa si agita non dico da una prospettiva rivoluzionaria ma da una prospettiva democratica in questa che poi è stata come lei giustamente descrive come tutti abbiamo visto una deriva neoliberale della sinistra istituzionale che forse affonda là le sue radici e poi vabbè insomma in qualche modo degenera diventa grottesca con Blair eccetera cosa agitiamo adesso se il popolo non ci piace? Hai ragione che c'è questa origine della critica del popolo che è proprio di una certa di una certa tradizione del pensiero politico italiano e non solo io credo che vada ancora tenuta la risposta è più difficile certo allora no noi non siamo populisti allora non si usava questo termine non siamo nazionali popolari e quindi da questo punto di vista non apparteniamo a quella tradizione anche del pensiero comunista che si rifà un certo Gramsci eccetera o una certa lettura di Gramsci ma c'era la classe operaia è vero era molto più semplice il discorso sotto un certo aspetto ma cosa vuol dire che il fatto che non siano più queste distinzioni così visibili direi così empiricamente visibili vuol dire che c'è una società liquida vuol dire che c'è la moltitudine ma questa è negligenza pura questo vuol dire che non siamo stati capaci nessuno per carità ma alcuni sentivano questa mancanza e cercavano di rimediarvi gli altri invece la esaltavano non ne facevano un'ideologia di questa impotenza no, che società liquida che palle la società liquida la società liquida vuol dire appunto populismo vuol dire una società omogenea dentro questo contenitore ecco che l'acqua è vedete com'è omogenea no, non è vero non è vero appunto vi sono differenze radicali si sono moltiplicate le disuguaglianze che vuol dire che quell'acqua non è affatto niente avere omogenea dovevi andare in cerca dovevi cercare di organizzarle certo che era più difficile che volantinare di fronte a una fabbrica con 50.000 operai dentro certo che era più complicato apparentemente perché chi ragionava anche allora sapeva che dentro quella fabbrica non c'era nessuna società liquida che c'erano i tecnici di un tipo di un altro tipo e sottoscritto ho scritto qualche libro anche sulla composizione di classe dicendo guardate che non c'è la classe operaia teste di cavolo voi operaisti dille cavolo ci sono tecnici ci sono impiegati ci sono quelli di primo livello di secondo livello eccetera eccetera e se non li conoscete succede che cosa? come è successo poi ancora allora la classe operaia e poi sapete i più giovani sanno quando è finito di fatto anche quell'operaismo da catto non quello serio è finito con la marcia degli impiegati della Fiat all'inizio degli anni 80 c'era l'uguaglianza c'era la classe operaia c'era appunto la società liquida anche all'interno delle fabbriche ed ecco che non era liquido niente e sono venuti fuori contro la classe operaia tradizionale gli impiegati tecnici e così via e che nessuno aveva organizzato che nessuno aveva visto mutati sbutandoli se è lo stesso adesso contro il populismo non reagisci dicendo c'è la classe operaia di allora figurarsi a parte il fatto che ci sono anche gli operai ancora e continueranno ad esserci ma al di là di quello ci sono che cosa? andiamo a vedere che c'è andiamo a vedere cosa significa precario andiamo a vedere cosa significa co 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 andiamo a vedere cosa significa andiamo a vederli andiamo a scoprirli andiamo a dire guardate che ci siamo noi qui ci sono dei sindacati ci sono i rappresentanti politici lavoriamo insieme come si faceva una volta con la classe operaia c'era qualcosa che lo vietava nulla lo vietava lo vietava che cosa? l'idiozia lo vietava il populismo lo vietava l'idea appunto la subalternità culturale il modello globale è un destino e i modelli sociologici da catto che hanno dilagato la società liquida la moltitudine eccetera eccetera questo è il punto bisogna reagire a questo andazzo analisi analisi materialismo storico viva Dio questo è mancato radicalmente un po' di sano materialismo un po' di sana conoscenza di analisi e di organizzazione e non possiamo riprendere che da lì l'idea che possa riprendersi un movimento che reagisce a questa deriva culturale a mio avviso addirittura ormai antropologica che stiamo che l'Europa sta vivendo e su cui magari diremo qualcosa dopo parte da qui parte da una nuova volontà di analisi della realtà di ritorno alla realtà di lavoro nella realtà che questa è la se le organizzazioni politiche e sindacali non riprendo o non riprendo da lì o non nascono da lì il discorso è chiuso perché il dilagare del populismo come prima dicevo ha ormai delle possibilità reali appunto i paesi dell'est che non per colpa loro ma vivono in un'altra età e quindi si ragionano e si comportano come come delle persone che vivono in un'altra età cosa volete fare e che ormai però sono dentro in Europa e sono potentissime e la e la la fasia delle forze di e la fasia delle forze di sinistra che ormai appunto dopo 30 anni che non comprendono nulla della realtà non l'analizzano non l'organizzano eccetera eccetera si trovano nelle situazioni in cui si trovano dopodiché magari ci saranno delle domande che riguardano anche loro e riprenderemo la questione grazie a tutti